Dunque, ciao Ale, un grandissimo abbraccio, un saluto a tutti i musicologi come noi, con la speranza di poter tornare presto dietro i nostri strumenti. Con l'occasione auguro un buon compleanno ai miei due figli Alessandro Junior, Maria Giulia dalle Seychelles del Lazio. Alessandro, lo sai? Le Seychelles del Lazio sarebbe il paese di Carchitti, con uscì, vicino a San Cesario. Sì, è abbastanza vicino a San Cesario, come uscita, noi abbiamo i riferimenti autostradali, come uscita autostradale è quella di San Cesario. Tu sapevi che erano la Seychelles del Lazio? No, questa cosa mi mancava, io adesso vado a prendere il costumino, visto che non sono neanche molto lontano. No, tra l'altro, tu non sei effettivamente molto lontano, vedi, non conoscevi Le Seychelles eppure eri così vicino. Non lo so, forse non confinano c'è un paese in me, c'è un'altra nazione in me. C'è un'altra nazione. Ah, non lo so. Tu lo sapevi, tu dimmi che lo sapevi. Vai a fare il bagno a Carchitti. No, infatti, io guarda, l'ho saputo proprio tramite questo Alessandro che ha avuto l'occasione di scrivere anche altre volte, per cui mi sono fatto una cultura, ma fino a poco tempo fa non lo sapevo neanche io, insomma, di questo fatto. Cioè, se io vado adesso su Wikipedia e digito Carchitti, potrebbe essere fuori pure questo Alessandro, chi lo sa. Va bene, comunque, ciao Alessandro, ciao Maria Giulia e ciao Fabri.